cari amici bene sì lo so magari mi contraddico io stesso comunque questo questo comunque lo devo fare questo video perché già comunque con il discorso che per quanto riguarda i pronostici dello scorso fine settimana come ho scritto anche su facebook quindi un attesto uno per me e uno per johnny per la bundesliga invece per quando riguarda il calcio maschile bielorussia due presi per me e tre per johnny andiamo però un po a narrare i risultati della bundesliga della bielorussia partiamo ovviamente dalla bundesliga lipsia friburgo 1 a 1 fenemerta berlino 0 3 dusseldorf faderborn 0 a 0 dortmund schalke 4 a 0 augusburgo augusta wolfsburg 1 a 2 francoforte wenger club 1 a 3 colonia maganza 2 a 2 un berlino bayern 0 2 e ieri sera nel monday night il posticipo le verkusen vince a prima col verde al 4 a 1 invece per quanto riguarda il calcio bielorussio maschile posticipata non conosco però il motivo la gara tra misch e neman zodino coroidea 3 a 1 energetico dinamo brest 2 a 1 soligosch slavio mojer 2 a 0 batte borisov slask 3 a 0 belfino videbsk 1 a 1 dinamo minsk inslok 1 a 0 rook brest smolevifi 0 a 0 poi farò il video anche di presentazione delle partite del prossimo fine settimana bene grazie a tutti questo davvero è stato l'ultimissimo poi ci vediamo in altri video domani non lo prometto però ne assicuro però ci lavoro su per non fare altri video oggi ok ciao a tutti